I nonni sono la nostra enciclopedia della vita, la nostra memoria storica, sono per molti di noi i genitori aggiunti. Purtroppo soltanto da pochi anni il legislatore si è reso conto del ruolo fondamentale dei nonni nella vita dei nipoti. Basti pensare che soltanto con la legge 219 finalmente si è chiarito il concetto secondo cui i nonni hanno un diritto di vedere i nipoti e hanno la possibilità di procedere anche in via giudiziale davanti al tribunale per i minorenni per vedere si riconosciuto questo diritto. Perché se è vero come è vero che i nonni devono contribuire al mantenimento dei nipoti quando i genitori non vi provvedono è altrettanto vero e giusto che i nonni possono esercitare un diritto di visita in favore dei nipoti perché il diritto è sempre dei nipoti a mantenere un rapporto con un proprio parente così stretto e quindi finalmente si sta creando una giurisprudenza che inizia a tutelare i nonni. Ovviamente non possiamo parlare di un affidamento condiviso con i nonni, parliamo di un diritto di visita, della capacità di mantenere un rapporto costante, significativo con queste figure meravigliose. Ovviamente il giudice può negare ai nonni in caso di gravi fatti o quando c'è un rifiuto da parte dei nipoti questi incontri, però spesso e volentieri noi assistiamo a delle vere e proprie ingiustizie, cioè di nonni che sono defenestrati dalla vita dei nipoti perché evidentemente sono considerati nemici nei confronti di uno dei due genitori. Credo che socialmente i nonni oggi abbiano un ruolo decisivo. Pensate che ci sono circa 4 milioni di minorenni in Italia dai 0 ai 13 anni che sono affidati ai nonni, i quali sono il vero welfare del nostro paese. Immaginate che i nonni sostituiscono le babysitter e per le famiglie in difficoltà economica dove ci sono due stipendi che a malapena ti consentono di mettere il piatto a tavolo o di pagare un mutuo. L'aiuto dei nonni è fondamentale perché si spavano tanti soldi, perché si ha un aiuto familiare, perché si crea quel clima ideale per i ragazzi. Io personalmente ricordo che la mia vita è stata vissuta prevalentemente con i nonni. Voi sapete che queste rubriche non vogliono dare un taglio tecnico. Ho sempre ripetuto, queste rubriche sono destinate a tutti, quindi io cerco di assumere un linguaggio quanto più diretto e accessibile a tutti. Allora gli avvocati matrimonialisti, divorzisti, familiaristi devono essere pronti a tutelare anche questa figura meravigliosa, che è appunto la figura dei nonni. Bisogna ovviamente cercare forme di mediazione, evitare di procedere direttamente in tribunale, a volte bastano degli incontri, a volte basta abbassare il livello del conflitto, scegliere le parole giuste per evitare una contesa giudiziaria che è comunque dolorosa, che comunque comporterà delle spese e dei tempi. Ma è chiaro che nell'impossibilità assoluta che un nonno dopo tanti anni che ha cresciuto magari quel nipote, poi si ritrova costretto a non poterlo vedere più, ma neanche più sentire, neanche mandare un messaggio, beh in questo caso bisogna intervenire. Bisogna intervenire perché anche i nonni hanno un ruolo tra virgolette genitoriale, ma hanno sicuramente un ruolo di supporto educativo e di supporto logistico, per cui questo è uno stato di diritto in cui nessuno si può permettere il lusso di cancellare figure genitoriali o parentali dalla vita dei figli. Se il sistema non tutela tutte le figure parentali che comunque fanno parte della fitta trama di rapporti che i ragazzi devono mantenere anche per la loro identità sociale e familiare, evidentemente questo stato di diritto non funziona. Per cui tutti i nonni che si troveranno in difficoltà devono rivolgersi ad un avvocato e cercare di risolvere la situazione.